Caglie con vicino all'aria, serve Insigne, palla sul destro, a giro! Castan con un braccio e calcio di rigore! E si lamenta Castan con Giacomelli cartellino giallo per lui, sembrato evidente. Insigne contro Cragno, arriva il fischio. Insigne! La mette in porta! Ed è 4-0 Napoli, il poker della squadra di Sarri alla Sardegna Arena, primo gol nel 2018 per Lorenzo Insigne. Non segniamo dal 23 dicembre scorso, in Napoli Sampdoria 3-2 dopo un digiuno lungo sette partite. Grazie!